Intanto vi faccio una passionella, con questa musichetta molto swing, potete anche farmi un applauso, bello forte, fa schifo questo applauso, fatele più forti, aumentate, bravi, come la scena dovete applaudire ancora più forte di così le vostre ragazze, sono al buio in questo momento, anche perché, sapete perché sono andato qui? Perché io da lì non vedo nulla, è un fuori programma, è un fuori programma. Bene, voglio segnalare, siamo in pausa per 5 minuti, ma rimaniamo fermi. Allora, prima di iniziare, Gianluca, vai al centro palco, ci sei? Non ti fanno passare? E' più difficile per passare che per sentare, anche perché salutiamo, saluto, voi non lo vedete, lo staff del trucco e parrucco, quindi facciamogli un applauso, loro stanno passando lì. E domani sera, ovviamente, li riavremo qui. Dunque, ti interrompo prima di partire, intanto lo dico. Dimmi, riprendiamo l'ora qui? Alla, agli uno, siamo con la conduzione, riprendiamo, 3, 2, 1, applauso. Grazie. 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 Grazie.